ciao ragazzi sono blu fire benvenuti alla blu fire no no ma è iniziato fail numero 1 fail numero 1 fail numero 1 sono johnny greek sono mr black dovevamo iniziare insieme sul tetto e fare una bella cosa e tu se ti sei buttato giù ma iniziamo sei tu che mi hai spinto scusate non si può spingere si lei sta fermo ragazzi con me in chiamata c'è anche dark gamer 23 della community c'è tutta la gente del mondo in chiamata che non c'è io sono fire j ma è tutto a farti male io sono azzurro al power ragazzi obiettivo numero uno della serie è saltare sul pozzo e io sono azzurro al power dai zitto fallo per là no ho già perso mezza vita bene cosa facciamo in questa serie dove siamo diciamo dove siamo ovviamente mi sembra questo è il mio nuovo server no sono in una caverna adesso furlate tipo tutto il tempo io non parlo e lui è quello lì che parla dark seed è una cosa del genere il seed è una cosa del genere il seed è una cosa del genere dai le rifacciamo dai le rifacciamo dai per favore aspetta ultima domanda ci avete la paystation voi hai chiamato online l'ho scritto sul canale no non è va bene io non ho ancora visto e tu vai sul mio link che sta in descrizione ho baggato dai come e tu come ti chiami dark gamer che è casa holding zeus ho fatto ti ho rubato la casa vabbè aggiungi vedeva fx 2012 vabbè aggiungi po ho della sabbia in mano e da quattro faccio cadere in testa cioè quello ti fa danno anche se non posso colpirti giudimi se no è troppo difficile il nome duo ah ragazzi comunque è un server moddato quindi ci sono anche le modi no veramente si le sto scorrendo tutte ora non so perchè al contrario ok ho saltato le prime 8 pagine fai c'hai materiale c'hai una crafting table si ce la facciamo subito è troppo difficile da castare oh dove ce la facciamo la pianura eh si la pianura la casa dai prendi un po' di pietra che facciamo sta crafting table dove ce la facciamo la casa vicino al vulcano il villaggiano sta cadendo nella nostra caverna tipo dove ti hai fatto il buco oh la facciamo qua la casa guarda qua aspetta dove sei io sono qua con Enrico il villaggiano e ti prego fai qualcosa anche per me perchè io non sto 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 prendendo il sole sto prendendo lì uno che prende il sole va va ciao ragazzi sono bluefire benvenuti nella bluefire tv bluefire tv qui con me c'è mr black oddio buonasera e anche poi in skype solo ovviamente solo o qf224 su skype non c'è più nessuno prima parlavano tutti ah ok ciao sono bluefire benvenuti nella bluefire tv vado ma qua mi stanno prendendo in giro ragazzi io non la faccio una serie con questi qua mettiamo solo i fail mettiamo ok farò un video montaggio in cui spiegherò perchè non farò una serie con dai boh cioè allora la logica di Andrea le dico vai di la lui si mette in terrazza vicino a me certo ragazzi sono bluefire venuti nella bluefire tv dai ce la facciamo a fare ti prego smettila dai questo coso metti così dai inizia inizio si vai ho due uova da lanciarti seriamente ok dai ciao ragazzi sono bluefire e sono con smettila di girare le spalle sono con mister black bella bros siamo in un server di minecraft in techit classic e stiamo così gironzolando diciamo a prendere il sole si lui prende il sole io guardo il cielo invece no l'obiettivo di questo mini let's play serie chiamatelo come volete si è quello di 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 non ci sono obiettivi in poche parole costruiremo e demoliremo tutto per chi volesse partecipare con me a una serie invece vi invito poi a vedere cosa come funzionerà per la community bene bluefire e poi diciamo come per dire mi puoi sponsorizzare è il primo ragazzi su skype con noi c'è qualcun altro forse o no è morto? è mutato c'è gente che appare e scompare vabbè e si l'obiettivo appunto ci sono un sacco di mod interessanti io soprattutto soprattutto sono interessato alle vecchie mod distruttive quelle che fanno un sacco di botti con questa? tipo quella ma paura alle spalle lui c'ha i trucchi attivati tipo no no non è vero no no vabbè c'ha la possibilità di di teletrasportare no c'ha la possibilità di cos'è? di teletrasportarmi si da un luogo all'alge ah si quello si c'è il permesso si perchè ragazzi ho delle cose in mano perchè si iniziano le serie così ovviamente no perchè di quante volte abbiamo cercato di iniziare si abbiamo cercato di iniziare 10 milioni di volte e si c'è un vulcano io direi di subito come primo obiettivo di andare a ah c'è un mulcano si di andare alla cima del vulcano no l'hai capito il mulcano no basta ho già trovato dello staff qua vieni qua allo staff c'è una fornace e c'è due fornace ah io ho capito c'è lo staff del server no no uno staff tipo ah si era quello lì dopo poi magari ci andiamo a fare gli scherzi si si andiamo a fare gli scherzi subito andiamo tanti io mi ricordo che con questa qua no no dai ha preso la dinamite abbasso leggermente il rendering ok dico con questi blocchi no del vulcano mi sembra che ci si poteva fare dei blocchi vero? si penso di si allora dai facciamo si io comincio già a fregargliela tieni io intanto prendo la legna e ci faccio il piccone eh hai tu fai il piccone ovviamente ragazzi tutte le serie non le inizierò mai facendo la crafting table io non farò mai una crafting table quindi se volete una serie con me dovete saper fare una crafting table piazzala un attimo piazzala dove? le due di pare ok la metto qua vediamo se riesco a farlo in tempo eh i primi obiettivi della serie ti miserva a fuoco eh sta andando no non sta andando hai ancora qualche secondo no te la spegno sta andando a fuoco non si può spegnere da usare shift no no fatto mamma mia wow che professionisti perfetto preso io ho anche della gravel se vuoi dai prendila una mia e una tua e perchè hai le gravel ok una mia mazza già stiamo avanti oh io intanto prendo sta bietta si può fare tipo il piccone no? no ci si può fare niente col piccone no no vabbè andiamo dagli altri ora eh ci si può fare niente è inutile che le prendiamo ci si può fare niente facciamo il nuovo catalyst poi vieni vieni andiamo si e che serve adesso? eh si è ottimo per il trolling ottimo dire ragazzi sono entrato in questa serie dicendo ciao ragazzi sono bluefire tv e in chat mi hanno scritto no bluefire tv non entrerebbe mai in un server simile ero io che ti trollavo eh no erano gli altri che ti dici? vabbè comunque eh dove ci mettiamo? dici di tu questa è una buona zona una pianura almeno si si dai e poi via avanti ci stanno gli altri quindi potremmo trollarli a bestia lì c'è il villaggio la quindi ottimo eh si ci mettiamo qua vicino agli algori dai va bene togliamo tipo tu sai velocizzare nei video? eh si io sono probabilmente un po' professionista di queste cose ah guarda 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 odio i truzzi ban permanente 3 2 1 lol boh sono pazzi in sto server comunque ragazzi è dedicato quindi tutto per noi tutto per noi yep yep vi faremo entrare solo se vuole il drago di my little pony si il creatore di questo server di my little pony dovete contattare lui non me in quanto io non sono responsabile della whitelist di cose simili no aspetta dovete contattare su skype favvj per entrare eh si e su real power anche ovviamente impossibile perchè si bloccherà appena direte ciao e quindi va bene iniziamo che dobbiamo farla io prendo un po' di legna ragazzi perchè tu conosci favvj allora prendila tu 43 tu conosci favvj io ce l'ho su skype favvj no mandalo su skype mandamelo il contatto dopo te lo mandiamo favvj mi ha scritto ciao sono grande dai mandamelo adesso ma questo mi muore nell'albero mentre prendo la legna senti io la legna in teoria già ce l'ho però tipo mi cerco della cobblestone intanto mi faccio il piccolo in cobblestone si dai prendine sei di cobblestone così ne prendi tre anche per me intanto io faccio tipo una cesta certo quelle cose inutili ecco qua ci abbiamo la cosa la caverna già io prendo una cesta ok c'è un polo mandamelo dei dark game ma qua pieno di polli riuscita riuscita questa è la meno a inizia una mela no no faccio bene le imitazioni riuscita di antonio banderas mi rispondi sai parla setta riuscita riuscita se lo è ok ho due gocce d'acqua si riuscita mi portavo adesolo di buono cosa hai cosa hai fatto cosa hai comprato al supermercato metti la azione ti voglio stupire io ma io mi so sempre chiesto no sì mi ascolti sascia no sascia no sascia come vuoi fare lo smacchiatore boh eh sarà boh sarà una questione di tecnica no e ce lo sai che c'è lo smacchiatore no mhm grey no si grey eh e lei è grey si è grey dai pre ah grazie no la hai capito eccolo lo strumento più importante della serie ahahahah spero che tu abbia colto il doppio senso ah non c'è questo era collegato al primo ma vai via vai via fai paura con la tnt posso tipo trollarlo dai ti eh no perchè è super op no no in seguito in seguito no no collox collox io sei collo bluefire tv si dobbiamo lasciarlo in pace spiorellino basta questi fiorini ho già sei in mano aspetta adesso faccio un aiuola un aiuola un aiuola eh si sono cose maledetto senti andiamo a fregare qualcosa ai villager eh si io prendo le porte ma io non ho capito perchè ha lagato anzi no aspetta ci facciamo aspetta eh prima una spada una spada no no lascia stare le spade eh no eh per ammazzarli magari ah per ammazzare i villager si dai io la faccio di legno si tanto le cose in pietra non servono più di tanto sino per uccidere i villager dai stiamo andando bene stiamo andando bene dai in questo episodio praticamente abbiamo già fatto nulla no già abbiamo basta ma oh cacchio ciao tutti caciotti oh guarda che ho trovato chi hai trovato una caverna con del copper io ho trovato uno squid ti ho trovato aspetta dell'uranio cos'è la sua tgl via 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 c'è io tipo io trovo le cose più eh più power e eh di più cобр ma questo cosa è questa cosa è ma l'ho preso tipo no era tipo bug era un bug aiuto aiuto addio tu capisci dove sto la casa ma d'era accompagnato bravo ti ho chiesto qualcosa abbiamo già del copper lo prendo intanto adesso vengo anch'io nella cavernazza ovviamente spero che... no spero posso dirlo iscritti di blufer tv passati sul mio canale se volete è una cosa facoltativa tu non stai a fare niente e sto prendendo il il carbone apposta ho un problema si eccomi lo sedici di fai quattro copper ma che che stai a dir il coppere serve si dobbiamo fare tipo quelle cose in bronzo acqua da lì che c'è aspetta che faccio cadere il carbone in testa della che sei giù guarda andamone a te che c'è c'è il tin ore qua eh prendi tutto io ti sto facendo cadere la roba tanto ci hai messo l'acqua e ora ti aggiusti no ma perchè la butti ma sei un nabbo tu sei un nabbo tu sei il nabbo di squared tu sei il re dei nabbi sei peggio di justin bieber ah si? si sei peggio di justin bieber e fa vj insieme uh questo è pesante ahia ahia e surreal power ah no io surreal power lo seguo anch'io ah perchè stai dicendo peggio e perchè c'è del copper vabbè saliamo qua e tutto buio non saranno vedendo niente si adesso blocco l'acqua no la sto aumentando involontariamente scusa ok l'ho bloccato ok ok posso farmi una torcia vieni dai dove sei eccolo anzi no quattro scusa tieni ma hai bisogno di stick ne ho tre no ce l'ho ce ne abbiamo giusto giusto per fargli vedere qualcosa di scritti ah ok giusto si ma ti ho fatto fuori ti ho tirato giù una marea di carbone sei riuscito a fare solo quattro torce eh ce ne ho ventiquattro però non mi va di farle oh ragazzi tutti sti salti non sono ancora riuscito a prendere niente oh ci abbiamo un sacco di copper quattordici vabbè sacco ragazzi le serie con il copper iniziano sempre bene vabbè almeno abbiamo trovato qualche materiale scusa cioè eh al minimo scusa eh sì eh cosa facciamo torniamo a casa quale casa? si è una cosa che non si può dire negli altri episodi perché poi c'è sappiamo sempre dove andare ci sono i waypoint anche qua si col puntino ok esclamativo eh ok allora risaliamo senti tu intanto un po' di pietra plendi la belle lezziculezza si così possiamo fare ragazzi una casetta caruccia caruccia si si un un qualsiasi cosa un qualsiasi un totem di pietra un castello un totem c'è un'altra caverna si eccomi ti interessa? tutta mia mi dai qualche torcia piazza una torcia magari eh sì magari però se riuscissi a tipo a fare tipo qualcosa del genere vai ok ok ci siamo chiusa l'acqua faccio subito la torcia questo c'è qua guarda ma è una caverna a pacco allora che vuol dire? è che non c'è un ferro una beata ferro oh ecco oh io mi prendo il ferro è tutto mio uno finita finita senti ma tu ce l'hai messo il waypoint a casa? oh certo facile facile ho trovato una cosa blu l'hai messo? ah sì quella che va presa col piccone di ferro ma ce l'ha la fornace lo posso fare subito? no ce l'hai sì io ce l'ho dietro la fornace sì ma hai voglia di cuocere qua? sì vai allora fai tanto io mi mangio una mela ah me la mangio no me la mangio ragazzi lei capica sì sì l'ho capita l'ho capita ah pensavo che non la capivi eh la community raga la community ragazzi tanto io ti libro qua intorno al blu così poi lo prendiamo senti tu intanto fatti il piccone in ferro se io mentre sto prendendo il copper ah ah ha finito sì se mi lasci nella fornace un po' di carbone è perfetto ah se mi lasci non vale se mi lasci non vale no no ti prego basta basta cosa c'è qua? del gg esclamative ok grazie per il fatto hai tolto mamma mia qualche cos'è grazie grazie me le lasciate un giusto uno no 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 la craft in table ah questa è una bella punizione vieni intanto devo magari ci spuntano qui per addosso moriamo è possibile appossiona appassionatamente chi è che mi manda fa vij ah tu schiatti io io no oh pia la no ma sul serio io no una craft in table te l'ho messa lì te l'ho messa blue fire me l'ho messa lì lui me l'ho messa lì fa vij mandami fa il gmail dai dai se non sbagli stiamo registrando ah guardate dove l'ha imboscata ragazzi guardate dove l'ha imboscata oh ciao youtube mi sponsorizzi xd oh blue fire mi sponsorizzi oddio che c'è blue fire no 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 chiamalo chiamalo oh no no chiamalo perfetto ho trovato le cose blu con cui farmi i bellissimi attrezzi blu per blue fire ti prego non ce l'hai anche per me no sono solo per blue fire tipo quanto te ne rimane no 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 quindi io c'ho 23 di copper cavolo boh si è messi benissimo domanda per blue fire però volevo chiederti mi serve tipo un mosso non ti ma perchè dai che giochi che giochiai della playstation poi il coso blu allora dai ti prendo ottime che cosa ti serve che giochiai della play ma perchè non puoi fare ste domande nel video della techit stanno registrando ah io penso che lo gioco a tutti al massimo puoi parlare del tuo canale no non è vero non è vero al massimo parlare del tuo canale no iscrivete grazie grazie miei no vi manca uno stick ah me la go fate un grande piacere a me se vi iscrivete al mio canale è stato un grande piacere se vi iscrivete al mio canale sarebbe fosse un grande piacere sarebbe fosse un grande piacere fare un giro ma che sarebbe fotuto dimmi il congiuntivo presente del verbo potere del verbo potere che ti ha detto potere congiuntivo del verbo potere potetos io poteruto tu poteressi adesso ragazzi prenderò un istante per cacciarlo dalla chiamata bene rieccoci dove 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 ecco qua 35 di carbone questa era la zona casa adesso cuociamo tutto ma hai lasciato la cofornace? no non l'hai lasciato no no siamo a casa ora io no io sono rimasto là ho il piccone di ferro però non ti fare la cosa in zaffiro ma che hai distrutto la casa qua? non ti fare la cosa in zaffiro se no mi c'è solo la testa di uno squid e cosa faccio con zaffiro? faccio due picconi quanto c'hai di zaffiro? più meno ah si falli faccio due picconi uno blu sicuro per me quello è mio non lo tocca nessuno io la cosa blu poi se vuoi una spada o un piccone dimmi tu sì meglio dai forse è meglio la cosa sì il piccone perché la spada ok tanto negate dobbiamo fare il pvp quindi sì ecco qua le due spade senti lo cuociamo già? senti prendi la tua spada aspetta che cuocio prima? il tin o l'hopper? cuoci l'hopper ok 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 ne ho messe perché non funziona shift? prenditi poi il piccone no non mi funziona tipo shift per fare tipo il tasto veloce per mettere la roba eh siamo nella versione vecchia forse eh metto di qua il ferro ah ecco funziona eh? ho messo il ferro io ho un botto di coal bravo da una parte il ferro ma sai quanto coal abbiamo? eh sì 32 li ho presi io e gli altri li ho presi io bene ragazzi per questo episodio è tutto aspetta prima ho un si si tranquillo dall'aiuola è tutto ah? l'aiuola l'aiuola perché l'aiuola? ma perché hai messo tutti tipo sti fiori tipo così? che senso avrebbe? come che senso avrebbe? importantissimo ma è vero questa la lasciamo eh guarda sto facendo l'aiuola cioè non so non ho mai non sono mai entrato in un mondo con così tanti fiori ma lo sai che non stavo cuocendo il tin? cosa stai cuocendo? no non sto cuocendo il tin cosa stai cuocendo? il copper? si ragazzi cosa importantissima fare l'aiuola è la parte cioè la decorazione è una delle cose più importanti in minecraft di solito i grandi youtuber fanno tutti serie in cui ehi macchinare gli impiantoni le modi ma guardate che no a noi l'aiuola no l'aiuola eccola qua tell me why pure te aiole hai detto pensa ti ho circondato di fiori va bene aspetta voglio fare una cosa io devo scappare dobbiamo finire ok aspetta prima fare una cosa così cuociamo il pollo hai fatto un sottopassaggio per le fornacce ti piace? lo lascio? si lascialo aspetta faccio faccio giusto uno scalino di pietra va bene cosa posso fare ora? posso cuocere qua le bistecche si va bene? si si può passare si aspetta ragazzi nel secondo episodio mi troverete con tutta la casa castella immensa che arriva fino alle nuvole no no la facciamo in camera no non è vero ragazzi la facciamo più o meno in modo che ecco guarda che figo eh oh guarda che figo dimmi se non è figo il fiore si può mettere su non è figo non è figo guarda no no stai registrando ancora guarda si si ci siamo ecco cosa hai fatto? boh ragazzi da questo brobio di serie guarda che bel per me è tutto guarda che bel vieni qua che ci battiamo il 5 ok vieni qua no ma guarda che figata cioè devi vedere il senso di questa cosa guarda cioè guarda che bel ragazzi io lo lascio qua è troppo bel noi continueremo per ore ovviamente cioè guarda che bel ragazzi io lo lascio qua è troppo bel noi continueremo per ore ovviamente però eh no se volete voi se volete vi mettiamo il loop di sta cosa no comunque dall'infinito ble 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 alla blue fire tv è tutto bella ragazzi ciao alla prossima salutate tutti bye 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 Grazie a tutti.